Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video del canale. Da bravo bimbo dovevo assolutamente provare il nuovo microfono e quindi ho trovato una scusa per fare un video che spero che possa essere un po' interessante per la maggior parte di voi. Parliamo di possibili carte o da vendere o da comprare o che comunque sia sicuramente andranno a muoversi di prezzo nei prossimi mesi. Ovviamente dovrete valutare voi in caso le abbiate da vendere oppure siate decisi in qualche modo a comprare qualche donna di queste carte che vado a nominare dovrete trovare voi il momento migliore per vendere o comprare. Io parlo solo di carte che sicuramente si muoveranno di prezzo in questi mesi. Quindi con l'uscita di Savage Strike abbiamo i Guardragon e Guardragon che in Giappone non è che abbiano impressionato tanto. Non si sa perché. Sinceramente non ve lo so dire neanche io perché in Giappone il mazzo non ha preso particolarmente piede. Il deck ha delle combo molto forti, entrano anche relativamente facilmente e sono splashabili in 247 Archeotype Draghi diversi. Proprio per questo inizialmente penso che ci sarà un movimento di mercato e di prezzi per quello che riguarda Crusadia. Occhi rossi, Blue Eyes e sicuramente tante delle carte Rocket che fino a qualche mese fa stavano letteralmente a spicciolini tipo 20 centesimi. Visto che la versione un po' più consistente del Guardragon è quella con 4-5 carte Rocket dentro. Sempre con l'uscita di Savage Strike ma che c'è da tener conto che usciranno anche supporti un mesetto e mezzo, due mesi dopo per il mazzo. Orkust. Di Orkust c'è poco da dire, il mazzo già adesso è molto molto forte sotto determinate condizioni, molto combo dipendente. Con i supporti di Savage Strike riceve una gran mano ma con quelli che escono nel set ancora dopo in Dark New Storm, mi sembra che si chiami, il mazzo migliora ancora di più e si eleva veramente a dei picchi molto alti. Non so se sarà meta, dipende sempre dalla banner ed è sempre il solito discorso ma un mazzo abbastanza temibile e sicuramente problematico da affrontare. La carta che adesso è salita tantissimo di prezzo in questi ultimi giorni Ibli che mi hanno detto sul mio Discord che sta delle cifre fuori di testa, assolutamente fuori mercato. Non ho controllato perché sono andato di là a registrare e mi sono totalmente dimenticato di guardare effettivamente quanto sia salita in questi giorni ma mi fido dei miei ragazzuoli quindi sicuramente sarà arrivata delle cifre fuori di testa e credo che può solo peggiorare. Se invece volete comprare o volete investire sul deck tenete presente chi c'è la possibilità che comunque sia qualche cosa del Dark Warrior Engine o della roba PK finisca in Burned. Non mi dilungo troppo sul perché ma comunque sia nonostante Elite sull'Armageddon ancora la roba Dark Warrior è molto forte ed è splashabile comunque in tantissimi mazzi. Quindi c'è comunque Graffer, l'Armageddon A1 di non è il massimo ma dà una bella mano e in aggiunta al Dark Warrior Classic io ci metterei dentro nella definizione anche la roba PK perché ormai Dark Warrior e PK vanno di manina in manina e o la Fog Blade o qualche cosina dell'engine di base dei PK secondo me è primo poi ci saluta perché comincia veramente a essere splashato dappertutto e sta quasi cominciando a diventare un problemino. Magari non a livello di meta ma a livello di deck building ragazzi tutti i mazzi Dark ormai giocano a roba PK e fa abbastanza ridere poi non so come la pensate voi ma altra carta che farà muovere sicuramente tantissime altre archetype dimenticati da Dio è la Pot of Indulgence quindi la nuova Jara. Se non sapete cosa fa praticamente puoi andare a bannare 3 o 6 carte randomicamente dal tuo extra deck se ne banni 3 peschi 1 se ne banni 6 peschi 2 ma per il resto del turno non puoi più pescare carte dal tuo mazzo con effetti in pratica. Quindi dove andrà giocata? Andrà giocata in mazzi control o in deck lentissimi che hanno veramente zero modi di aggiungerci roba dal mazzo alla mano. Ce ne sono tanti anche se così potrebbero sembrarvi assicuro che ce ne sono veramente tanti che sono in una condizione di lentezza o che hanno solo bisogno di una carta che gli diano accelerata. Quindi mi viene in mente così su dei piedi che ne so custode di tombe riceverà un grandissimo boost e potrebbe anche essere un mazzo quasi quasi da tier a seconda della banlist che cala ragazzi. Quindi l'antimetà classico che era in giro anche negli scorsi mesi migliorerà tanto stato e barriera e chi più ne ha più ne metta ecco perché me ne sono venuti in mente alcuni ma sicuramente ce ne sono tanti altri che si muoveranno assieme alla Pot of Indulgence. E potrebbe essere che qualcuno di questi deck un attimo messi in cantina e accantonati diventino buoni e magari qualche cosa diventa anche relativamente competitivo. Ultimo consiglio per quello che riguarda il set di Savage Strike che comunque è quello con l'uscita più vicina a noi o almeno rispetto a quando sto registrando questo video è di gestirsi bene le carte Max Rarity del mazzo neospaziale. Visto che le carte Max Rarity sono tutte vecchie hanno ricevuto poche stampe e sicuramente con l'interesse che ci sarà con l'uscita di tutti i nuovi supporti in Savage Strike per il neospaziale tanti vorranno il mazzo Max Rarity perché è una fissa per tantissime persone. Se riuscite a piazzarlo a dei prezzi veramente fuori di testa ci brossate tantissimo ed è uno dei momenti migliori probabilmente per piazzare quelle carte lì. Prima di andare avanti parliamo proprio veramente un secondo del mazzo dei Salaman Grit è stata confermata Lush da dei leak che sono usciti di un distributore cileno che porta i mazzi in America e compagnia quindi il 90% c'è la sicurezza che Lush Blossom sarà all'interno dei Structure. Non è ancora arrivata la conferma ufficiale dalla Konami ma dovrebbe essere così. Parliamo quindi del set successivo Dark Neo Storm è stato confermato l'uscita del Cherubini all'interno di questo set e i prezzi del BA sono schizzati proprio fuori dalla finestra. È un buon momento probabilmente adesso per vendere le carte BA non so quanto convenga comprare ma sappiate che in questi mesi comunque vedremo un attimino fluttuare il mazzo anche a seconda dei risultati che farà in YCS tornei e compagnia. Però l'hype c'è quindi l'interesse di gente a prendere il mazzo sicuramente c'è quindi se lo dovete piazzare potete stare tranquilli che di dritto di rovescio lo dovreste riuscire a vendere. Personalmente sul BA mi esprimo proprio un'opinione personale condivisibile o meno. In Giappone il mazzo a Cherubini dà una vita e non si è visto proprio che abbia combinato cose incredibili a parte a qualche local. Quindi non saprei sinceramente quanto riuscirà a fare da noi anche col Cherubini. Personalmente io non mi comprerei tutto BA solo per inseguire il fantasma di questo Cherubini che esce a aprile mi sembra Dark North Storm o forse ancora dopo. Non so quanto ne valga la pena però c'è la possibilità di farlo quindi io ve lo dico in questo video. Altro investimento che potrebbe essere redditizio è la vendita o l'acquisto adesso prima che salgano di prezzo nei prossimi mesi delle carte Max Rarity in modalità assalto. Visto che anche qui stampe limitate edizione abbastanza speciale poche carte in giro. Se trovate queste carte qui assalto a massima rarità ve le tenete poi le vendete al momento giusto sicuramente ci plussate. Il mazzo non sarà un deck da meta non sarà richiesto da tanti è più un acquisto nostalgia che altro però credo che ci siano margini di guadagno. Altro punto sempre sia in Dark North Storm che in Savage Strike escono support per le Incantation e quindi questo cosa significa? Significa che tutti i deck basati sui rituali ricevono un boost immenso e alcuni mazzi vanno su ancora di più in valore. Quindi Blue Eyes tornerà su in valore come Archetype, altri deck rituali che comunque sia possono permettersi di giocare tutte le carte Incantation andranno su di valore. Bisognerà tenere un occhio abbastanza attento e le antenne alzate sui deck rituali e vero può essere che magari qualche d'uno dimenticato riesca a sbucare fuori grazie a Incantation e a spaccare il meta al momento giusto. Ma non lo sappiamo ancora per lo meno. E infine l'ultimo appunto ma questo è proprio super speculato e nella mia mente quindi potrebbe essere un flop come potrebbe essere una vittoria immensa. Sono le carte Mythical Beast o comunque sia le carte segnalino magia anche vecchie quindi i Synchro, il Tempest Magician, l'Arcanite e compagnia sempre nella rarità più alta possibile. Per il nuovo mazzo Incantatore che uscirà sempre con i segnalini magia. Potrebbe essere un rischio anche perché comunque sia devono ancora rivelare tante carte di questo structure che uscirà. Per il momento le uniche carte rivelate sono il Link e il nuovo Endymion mi sembra comunque il Mostro Pendulum. E sembra che non ci sia tutta questa grande sinergia con Bestia Mitica quindi potrebbe essere un bel rischio prendersi Bestia Mitica per metterlo lì dentro e poi ti trovi con un deck che non comunica. Però magari qualcuno ha già le carte in giro e se vede che si alzano nel corso dei mesi le vende e ci ricava una cifra di scritta per buildarsi alto. Però sicuramente vedremo muoversi qualche cosa di queste carte segnalino magia sul mercato. Apprezzerei tanto un piccolo feedback sull'audio quindi fatemi sapere se è troppo alto, è troppo basso, manca qualche cosa, rumori di fondo, pipipipo, papà. Ma lasciatemi un commento sotto perché almeno piano piano vedo di aggiustarlo con tutte le impostazioni migliori. Seconda cosa che vi chiedo è se avete intenzione di seguire qualcuno di questi consigli o comunque avete già qualche cosa in mente da vendere o comprare in questi mesi. E direi che possiamo veramente terminare qui. Un saluto a tutti e ai prossimi del canale. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!